A cosa serve una legge sulla concorrenza? Pensate al telefonino che avete in mano o al telefonino con quale io ho postato questo video. Ebbene le tariffe sono così convenienti in Italia rispetto agli altri paesi proprio perché c'è più competizione. Ecco a che cosa serve una legge sulla concorrenza. Quella che il governo Draghi si appresta a varare non è una buona legge sulla concorrenza, è una mappa delle concessioni, si fanno alcuni passettini in avanti. Ma almeno Draghi ha il merito di provarci perché dal 2009 avrebbe dovuto esserci una legge sulla concorrenza ogni anno. Ebbene dal 2009 a oggi ne è stata fatta una soltanto. Se Draghi riesce a fare la seconda è già un buon passo avanti.